Sono qui! Molti noti di numerosi fiction di successo, dall'amica geniale ai bastardi di Pizzo Falcone, ma anche attori bravissimi, sia pure improvvisati come il preside Gianfrancesco D'Andrea nella parte del Vescovo Clarus. Oggi la conferenza stampa, prima del cortometraggio presso la sala consigliare del comune di Alife, alla presenza del sindaco della stampa e di numerosi attori nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Presente naturalmente lo stesso regista Michele Schiano che abbiamo sentito a margine dei lavori. Allora, innanzitutto come nasce l'idea di questo cortometraggio e soprattutto di cosa tratta? Allora, noi siamo venuti tempo fa a fare dei sopralluoghi per il mio lungometraggio, che è la Dama Nera, che farò a breve. E vedendo le location di Alife sono rimasto attratto e ho proposto alla sindaca di farne un corto. E diciamo il grido della storia affinché possa essere ascoltata, presa in considerazione anche per quello che stiamo vivendo, tipo malaria, peste, dovrebbero essere da monito per noi e farci capire che queste cose le avremmo già dovute superare. Quindi l'idea di raccontarlo attraverso un viaggio onirico di questo vescovo, Clarus, vissuto tra 300 e 400, proprio primo vescovo di Alife, e quindi portare il protagonista di questo cortometraggio all'interno di tanti periodi storici, per poi poterne dedurre una conclusione molto positiva e di incoraggiamento ai giovani che appunto vedranno l'opera, spero. Quando è possibile vederlo e dove? Allora, noi di questo cortometraggio intanto lo manderemo ai concorsi, sicuramente lo manderemo anche a delle importanti reti televisive, ma noi ci aspettiamo di farne una serie per poter promuovere posti che spesso, ahimè, vengono dimenticati e che non sono del tutto conosciuti. Però a breve, sicuramente con i comunicati, informeremo tutti su dove potrà essere visto il nostro lavoro. Ottimo anche il lavoro di Elvis Esposito nella parte di Marco, il vero protagonista del cortometraggio. Ma chi è Marco? Allora, Marco in pratica è un ragazzo che fa il custode di un museo, precisamente del museo di Alife, che si trova a compiere questo viaggio, diciamo possiamo dire immaginario, con Clarus, che sarebbe il primo vescovo di Alife. Diciamo che in questo viaggio Clarus cerca di fargli capire che la storia, quella passata, quella bella, quella importante, non è soltanto pietra materiale che si sgretola, ma che rimane lì ed è per sempre in tutti noi. Quali sono state le altre tue esperienze? So che hai delle esperienze importanti a livello cinematografico. Beh, diciamoli sì, nel senso che ho avuto il piacere e l'onore di far parte dell'Amica Geniale, il mio ruolo era Marcello Solara, e mi sono divertito tanto, insomma, poi ho fatto anche altre cose, però dai, siamo in carreggiata nonostante il periodo. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso e Giuseppe Terminello per casertasera.it Grazie a tutti, Lorenzo Applauso e Giuseppe Terminello per caratteristica.it Grazie a tutti.